Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. È iniziato il cantiere per la riqualificazione del piazzale davanti alla Basilica di San Giovanni in laterano intervento nell'ambito dei lavori per il giubileo del 2025. L'intervento sulla piazza riguarda una superficie di circa 10.000 m2 e prevede il rifacimento della pavimentazione con una particolare attenzione al mantenimento del verde pubblico e alla sostenibilità ambientale. Tutti i lavori che vengono eseguiti sulla piazza non hanno alcuna ripercussione sul traffico cittadino svolgendosi su un'area pedonale. Tutti i dettagli sono su romamobilita.it Grazie per la visione!